Io sono il presidente della regione, il presidente della Lombardia, eletto per realizzare il programma e quindi tutto ciò che va nel senso giusto mi vede d'accordo, tutto ciò che va nel senso sbagliato non mi vede d'accordo anche sulle nomine che sono una cosa poi funzionale all'attuazione del programma, non è la cosa principale però io voglio mettere, voglio continuità, garantire la continuità con le buone cose fatte da chi mi ha preceduto e ce ne sono tante, ma discontinuità con il sistema di potere che c'era prima, tutto qua, voglio premiare il merito e mettere gente nuova, questo per quanto riguarda le nomine e quindi così farò e sono certo che poi andrà tutto nel senso giusto. Quindi per il presidente il caso Abelli è chiuso? Non c'è un caso Abelli, c'è per voi il caso Abelli, non c'è un caso Abelli, quindi non sarà il presidente? Il PDE lo aveva candidato adesso, così ha detto il PDE. Ah, ma sono cose che non mi interessano, non mi riguardano, procedo a fare le nomine quando c'è l'assenso e il consenso così come abbiamo fatto con queste, ma dopodiché non è la cosa più importante. Adesso il presidente Derser quando arriverà? Ma non lo so, vedremo. Invece questo invito a prendere voti da combattimento elettorale del PDL? Siamo in una fase interessante perché siamo di fronte alla disgregazione dei vecchi partiti. Il PDL per bocca di Berlusconi fra qualche giorno non esisterà più, si torna a Forza Italia, c'è una parte del PDL e quindi io tra l'altro vorrei capire anche nelle alleanze c'è il PDL, non c'è più il PDL, che cosa succederà. Ma al di là di questo, perché poi ci sono i gruppi regionali che prescindono dai partiti, mi pare che questa fase interessante deve vedere la Lega protagonista. Una Lega rilanciata, una Lega forte, che parla di cose concrete, di progetti concreti, come ho sentito oggi, tanta energia, qualche eccesso, non condivisibile, ma tanta energia, tante idee, tanta voglia di fare. Oggi c'era Sun Tzu, non c'era Freud qua, ed è una consolazione per me, visto le ultime vicende della Lega. Quindi sono molto interessato a questo e penso che si aprano le stagioni di opportunità che io voglio cogliere da qui alle elezioni del prossimo anno. Sono convinto che in autunno ci sarà la crisi di governo, questa maggioranza si sfalderà, il PDL si sfalderà e allora se noi siamo pronti, siamo lì sul territorio, presidiamo il territorio, possiamo raccogliere i consensi che abbiamo perso. Questo è il mio compito, il compito della Lega, è la strada che voglio seguire. Gli eccessi erano con una sbastica e con una provocazione della falce del martello sulle bandiere europee? Sì, è stata dipinta l'Europa come un'Europa ideologica, l'ideologia da un eccesso all'altro. Non è così, l'Europa non è più ideologica, è l'Europa degli affari, è l'Europa delle lobby, è l'Europa dei Mario Monti e dei banchieri. Purtroppo è così e quindi questa è l'Europa che noi vogliamo cambiare. Finale a sorpresa però, ha nominato il neo coordinatore. Sì, mi mancava un vice segretario federale, ne avevo due, me ne mancava uno e mi è parso... Sono venuto a posto ad ascoltarli i ragazzi qua per vedere se uscivano idee, se usciva fuori quello che io mi aspettavo. Cioè la ripresa delle battaglie, delle bandiere, l'indipendenza, la padania, mi è piaciuto molto questo e ho voluto riconoscere ai giovani e al coordinatore federale un ruolo di spicco nella segreteria politica, facendolo, nominandolo seduta stante vice segretario federale, perché il futuro passa da qui, il futuro passa dai giovani. Onore, gloria agli anziani come me che hanno fondato la Lega e l'hanno fatta sopravvivere mille battaglie, ma qui oggi c'è il futuro, qui ci sarà il futuro della Lega, passa da qui. Il vice sindaco di Pavia è un altro lombardo. Sì, allora è il coordinatore federale dei giovani. La metà è che prima del suo intervento c'era un gruppo di ragazzi del Veneto che ha mai nato le bandiere e si è messo a lato. No, non l'ho visto. No, no, l'ho visto. Sì, va bene. Il tema è che la vicenda delle nomine renda più difficile adesso stare in aula col PDL. No, assolutamente. Ma no, ma è risolto, ma non c'è una vicenda delle nomine. Abbiamo fatto delle nomine, abbiamo nominato l'Infrastruttura Lombarde, Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione. Abbiamo nominato Lombardia Informatica, Consiglio di Vigilanza e Consiglio di Gestione. Abbiamo nominato FinLombarda, Consiglio di Sorveglianza e l'ARPA, quindi abbiamo fatto le nomine più importanti. Non ne manca uno, ne mancano tante altre. C'è, che so, la triennale, c'è il Museo della Scienza e della Tecnica, il Parco Nazionale dello Stelvio. Ce ne sono tante e faremo entro le prossime settimane, trovando, come abbiamo fatto per queste, un accordo. Non c'è nessun problema. Voi avete enfatizzato un problema che non c'è per quanto mi riguarda, perché poi alla fine decido io. e quindi decide chi deve decidere, cioè il governatore, che è stato eletto per fare queste cose. Quindi, a posto colleghi.